E' lotta al fenomeno della truffa dei chilometri scalati, un fenomeno diventato un vero e proprio flaggello nella compra vendita degli autoveicoli usati, in primo luogo per il valore alterato delle vetture proposte come d'occasione, in secondo luogo perché le auto a cui vengono ridotti i chilometri, vendute con questa manomissione, infatti non verrebbero sottoposte nei tempi giusti e taglianti relativi all'effettivo chilometraggio e dunque la loro manutenzione o la sostituzione di parti usolate non avverrebbe in modo corretto. Per fronteggiare questo fenomeno criminoso, dal mese di ottobro il Comande Provinciale dei Carabinieri di Salerno ha disposto una fitta serie di servizi mirati alla prevenzione e alla repressione del cosiddetto lifting chilometrico su auto usate, messe in vendita negli autosaloni della provincia e nel corso della complessa e articolata attività investigativa che ha interessato i comuni di Salerno, Sapri, Agropoli, Vallo della Lucania, Sala Consilina, Eboli, Battibaglia, Mercato Sanseverino, Nocere Inferiore e Amalfi, i militari dell'arma hanno controllato oltre cedo rivendite ai titolari di alcune delle quali è stato contestato il reato di frode in commercio. Il meccanismo delittuoso utilizzato consisteva nel sottoporre il mezzo a una revisione anticipata anche di un anno rispetto al periodo previsto, andando però prima a ridurre i chilometri percorsi che apparivano sul display della vettura, al fine di venderla a un prezzo maggiorato del suo reale valore. La frode è stata scoperta comparando i dati storici delle revisioni effettuate sulle vetture estrapolati dalla banca dati della motorizzazione civile con il chilometraggio riportato sull'ultima revisione, nonché su quello del display del mezzo oggetto di verifica. In tal modo i chilometri erano del tutto incoerenti con quelli molto più alti della penultima revisione e quelli ridotti dell'ultima e la conseguente denuncia per frode in commercio. Al termine delle verifiche effettuate sono state denunciate sei persone nei comuni di Cava dei Tirreni, Castelnuovo, Cilento, Tramonti, Olevano, Sottusciano, tutti i titolari di rivendite di autovetture. Inoltre sono stati sequestrati tre veicoli.